Carissimi, la puntata attuale di Duc in Altum è occasione anche per conoscere di più e meglio, se ce ne fosse necessità, il nostro Vescovo, la sua vita e la situazione attuale sua ancora in diocesi, proprio perché ogni tanto dice delle parole che non piacciono molto, ecco perché sembra che a 75 anni abbia deciso qualcosa, ma speriamo che invece il Papa ce lo lasci, ce lo lasci bene. Ed ecco eccellenza, grazie per la sua presenza qui, ed ecco la prima foto che le facciamo vedere assieme al Papa. Lei ha già avuto diversi incontri col Papa e mi pare sempre di grande soddisfazione. Molto bello, è sempre un momento molto bello quello di incontrare il Papa, parlare con lui, questa era un'occasione particolare perché avevo accompagnato la Gabriella Grossi alla messa del mattino in Santa Marta, è stata l'occasione in cui ho consegnato al Papa, si vede il libro di Mons. Zarri sulla Benedetta Bianchi Porro, quindi è stato un bel incontro anche quello, ma tante volte è sempre stato di molta soddisfazione. Il parlare col Papa non toglie niente alla sua familiarità, al modo semplice? Si trova sempre a proprio agio, ascolta, risponde, familiarmente veramente, nessuno si è trovato in difficoltà a parlare con lui. 50 anni eccellenza, bisogna tirarli fuori perché sono una coincidenza, duplice della seconda coincidenza, parleremo dopo, cioè quello del seminario, ma 50 anni fa lei fu ordinato prete e da allora in poi ha fatto una serie di impegni che l'hanno portato fino a Forlì. Si, subito dopo diventato prete avevo ricordato all'arcivesco Monsignor Amici che era mio desiderio andare in Brasile e quasi mi aveva dato una promessa e lui mi disse cosa pensa che non abbiano bisogno anche là, adesso lei va a Roma a studiare, poi se ne parlerà e mi mandò a studiare a Roma liturgia. Quando ritornai c'era già un motivo per non andare in Brasile e si era combinato per un servizio alla pastorale giovanile delle parrocchie della bassa modenese, tutto concordato, all'ultimo momento scompaginati i piani, sono andato a Cappellano sette mesi a Finale Emilia, non molto lontano da casa mia e a settembre sono stato chiamato in seminario come vicerettore, prima del liceo e poi della teologia, per ben 16 anni ho fatto il vicerettore. Poi ancora 13 anni come parroco di Nonantolo, una parrocchia che allora contava intorno agli 11.000 abitanti, adesso mi pare che ne faccia quasi 16.000 abitanti, fino al 99. Al 99 richiamato in seminario come rettore del seminario. E allora era ancora frequentato il seminario? Il seminario sì, quando ritornai erano ancora 22 e abbiamo avuto un bel numero di sacerdoti, nei sei anni che sono stato rettore abbiamo avuto la gioia dell'ordinazione di vari sacerdoti. Il momento, fra le altre cose, presenta anche la foto della sua famiglia, sulla quale penso che abbia piacere di dire qualcosa, perché anch'io sono quarto di dieci e lei è il quarto, quinto di nove. No, di undici. Eh sì, perché due sono... Perché l'undicesimo è morto, il decimo purtroppo è morto sei anni fa, alla fine di maggio. In quella foto dovrebbe essere del 1955, ci siamo tutti e dieci col papà e con la mamma. È un bel ricordo perché è un'occasione in cui eravamo tutti presenti e si vedono, l'età si vedono e naturalmente gli anni sono passati. Vuol dire che sono passati 50 anni dalla prima messa, vuol dire che sono passati ben più di quelli che celebriamo. Adesso le faccio vedere la foto col suo vicario, perché è di nomina fresca fresca Don Pietro, che adesso bisognerebbe chiamarlo Monsignor Pietro Fabri, e sapere che la situazione della diocesi diventa abbastanza pesante in confronto al numero dei preti. La diocesi rimane sempre quella, le parrocchie sono le stesse, i sacerdoti calano, perché bisogna notare che da quando sono entrati, compresi due vescovi, io ho già sepolto 45 preti e ne ho ordinati soltanto 8, non perché non volessi, ma non c'erano da ordinare. E uno purtroppo è già in paradiso, anche quello Don Fabio. Quindi la situazione anche sotto questo aspetto diventa più pesante. Per questo abbiamo cercato di organizzarci, diciamo, di provvedere con la costituzione di ben 28 unità pastorali, che stentano un po' a ingranare, a mettersi in movimento, ma sono la via del domani. Non solo la foto con il nuovo vicario che le darà un grosso aiuto, perché già è venuto con lei una volta a girare la diocesi per la visita pastorale, ma poi abbiamo anche l'altra foto col sindaco, perché mi pare di poter dire che in questo momento fra la Chiesa e lo Stato, cioè città e diocesi, c'è un bel rapporto. Senz'altro come è stato anche negli anni passati, anche con questo sindaco mi sono trovato bene, buoni rapporti, cordiali, anche aperti, voglio dire quando è stata qualche necessità, qualche urgenza, è bastato chiamarci a vicenda e poter parlare direttamente. Anche recentemente ho convocato la prefettura, la questura, il sindaco, la fondazione, soprattutto a proposito degli immigrati e di alcune situazioni che si vanno creando proprio per questo flusso che va crescendo, anziché diminuire. Quindi al di là delle difficoltà insite in una struttura storica come quella di una diocesi, ci sono ora delle voci nuove, tipo quella dell'immigrazione, che creano grossi problemi. Insieme per esempio a questa crisi economica, finanziaria, che si protrae già da troppi anni e che colpisce tante famiglie, tante persone, anche tra questi, anche tanti giovani che sono in cerca di lavoro o non sanno quale potrà essere il loro futuro. Indubbiamente tutto questo pesa sulle famiglie, pesa sulla comunità e la Caritas è un osservatorio molto attento e molto preciso di quello che sta avvenendo, famiglie sfrattate oppure famiglie che non arrivano più alla fine del mese, e persone che passano, ultimamente mi dicevano che già alla sera e a mezzogiorno, alla sera e nelle due mese si superano le 100 persone. È logico che anche l'iniziativa dell'Emporio, che arriva a portare degli aiuti a molte famiglie, è in aumento come richiesta. Sì, sì, mi pare che siano già oltre 500 famiglie che ne beneficiano e mi sembra anche una soluzione molto bella perché è più dignitosa, più rispettosa delle persone e si evita qualsiasi spreco, perché le persone che vanno e possono scegliere tra quello che l'Emporio offre, quello di cui hanno bisogno, è una maggior garanzia. Dopo essere passati anche al vaglio della Caritas. È un centro di ascolto, è un centro di ascolto. Una coincidenza di questi 50 anni, che è casuale, ma che però oggi è significativa, è quella del seminario. Perché mentre lei festeggia giustamente i suoi 50 anni di sacerdozio, abbiamo anche la struttura oggi grandiosa del nuovo seminario, che poi è soprattutto oggi l'Istituto Superiore di Cenze Religiosi, ma che comunque ha un suo peso notevole nella vita della diocesi, e abbiamo i 50 anni dell'inaugurazione il 18 giugno del seminario. Ecco, certo che la voce seminario forse la fa un po' soffrire. È bello il seminario, è stata una costruzione molto bella e direi per il momento anche azzeccata. Purtroppo via via sono calate le vocazioni e tuttora i nostri seminaristi li abbiamo soltanto a Bologna, nel seminario interdiocesano regionale. Una utilità del seminario certamente rimane, perché è un po' un porto per tante attività, oltre a ospitare i sacerdoti anziani che hanno servito la diocesi, che hanno diritto anche ad una sistemazione dignitosa. Adesso è sede da alcuni anni dell'Istituto Superiore di Cenze Religiosi delle nostre cinque diocesi qui della Romagna, e questo è un servizio eccezionale dal punto di vista culturale. E che è anche molto frequentato, mi pare. Sì, è una cosa molto incoraggiante, anche recentemente con gli altri vescovi ci siamo trovati, constatare che c'è un'affluenza di studenti molto bella ed anche molto seria, fa piacere. Ecco, io sarei contento se potesse anche ospitare i seminaristi, cioè ci fossero anche i seminaristi, evidentemente. Sì, è la preghiera che facciamo quotidianamente ed è anche il problema grosso che lei sente, perché venendo meno numericamente i sacerdoti, crescono i problemi verso i quali la gente è molto in attesa, perché tutti vorrebbero avere il proprio parroco, tutti vorrebbero sempre avere quel servizio religioso che la quantità dei preti garantiva, ma che oggi ha bisogno di una revisione notevole. Normalmente nella visita pastorale dico sempre che nessuno è senza il parroco, perché il parroco c'è senz'altro, ma ormai ci avviamo verso una situazione in cui quasi nessun parroco avrà solo una parrocchia, ma ne avrà più parrocchie. Naturalmente bisognerà provvedere nella situazione nuova, è così, non è che si cambi immediatamente, secondo il desiderio, però si nota là dove il sacerdote è presente, la comunità è più serena, più tranquilla, più coesa e tante cose. Là dove il sacerdote non è presente si sente un po' la sofferenza, me l'hanno anche detto in qualche caso, se ci fosse un sacerdote stabilmente, anche là dove era anziano, forse qualche volta anche un po' malaticcio, ma c'era, era già una presenza molto significativa. Abbiamo, mi pare, diversi aiuti di sacerdoti dall'estero? Sì, ne abbiamo diversi che sono stati qui per motivo di studio oppure per motivo pastorale, quasi fide idonum, e di questo dobbiamo ringraziare. D'altra parte è un servizio che facciamo ad altre chiese e sorelle e chiese e sorelle che fanno un servizio anche a noi, perché ci sono di aiuto sicuramente. Eccellenza, senza poter affrontare il tema come meriterebbe, a me sembra di poter dire che qui è abbastanza facile agganciare il discorso sulla crescita dei laici, sulla modalità del cristiano adulto di rispondere all'esigenza della propria comunità cristiana. Ecco, questo allora è l'altro aspetto che non abbiamo mancato nella visita pastorale, che è ancora in corso, perché finirà a maggio del prossimo anno, di sollecitare la corresponsabilità dei laici, che non è neanche soltanto una collaborazione, ma una corresponsabilità nel sentirsi responsabili della vita della comunità. Il sacerdote ha il suo ruolo, la sua missione da compiere, ma da una pastorale che era tutta incentrata e solo incentrata sul prete e niente senza il prete, bisognava pensare ad una pastorale in cui i laici si assumono direttamente delle responsabilità in comunione, d'accordo, si intende col parroco che rimane sempre il primo responsabile, ma collaborare e collaborare veramente, essere responsabili nel pensare, nel progettare, nel portare avanti le iniziative, nel verificare lo stato di vita di una comunità. Anche il tema della famiglia, che è stato così studiato e ripresentato dal Papa, tuttora rimane un punto fermo per aiutare i laici a costituire delle unità familiari, dei nuclei, che si possano innanzitutto chiamare famiglia e poi che abbiano la carica della testimonianza. Senza togliere niente la responsabilità personale, individuale di ognuno, evidentemente sono molte le cose che si stanno facendo, anche le iniziative, le attività, che risentano della presenza o meno della famiglia. Se dietro c'è una famiglia che sostiene, che incoraggia, che propone, è un conto. Se è assente la famiglia, noi facciamo fatica anche a tappare quel che non c'è, insomma. E quindi l'importanza è fondamentale. Io credo sia dal punto di vista ecclesiale, sia dal punto di vista sociale. Sono giuste, sono doverose le varie iniziative, evidentemente per accompagnare la crescita e la maturazione delle persone, però quel che può dare la famiglia, soprattutto a partire dall'inizio, nessun altro lo può dare. È logico che in diocesi ci sono diverse associazioni anche di stampo educativo o cattolico, come l'Azione Cattolica, come gli Scout, ma io penso che il problema rimanga grosso, quella della crescita del mondo giovanile, del desiderio di vocazione. Questo è ancora un capitolo... Sì, sì, ma naturalmente chiama in causa un po' tutti quanti, a partire proprio dalla famiglia, perché se la famiglia non accoglie i figli o accoglie quel figlio o al massimo due, comunque per l'amore del cielo, che non pensino ad una vita di consacrazione, oppure se l'ideale di vita è quello dello star bene semplicemente, o del godere, o di avere sempre solo delle pretese, evidentemente non si può sviluppare. Il nostro Signore può chiamare delle vocazioni anche dalle pietre, ma normalmente anche questo parte dalla famiglia stessa, perché è la famiglia che educa alla generosità, alla solidarietà, all'apertura agli altri, al farsi attenti, a prendersi cura delle necessità e così via. L'impronta data dalla famiglia è fondamentale anche per lo sviluppo successivo. Eccellenza, lei è da dieci anni vescovo in Forlì, e questo decennale, questi dieci anni, come li vede globalmente parlando? Direi che sono stati dieci anni abbastanza sereni, abbastanza tranquilli, siano stati spronati, diciamo così, da tutta una serie di avvenimenti o di circostanze che ci hanno fatto un po' da strada, evidentemente. Siamo nel decennio dell'educazione, ma prima è stato l'altro decennio con il centro, il convegno di Verona, cioè il convegno di Verona, il convegno di Firenze, i due sinodi sulla famiglia. Stimuli ci sono. Ma certamente l'elezione di un nuovo Papa, lo stile del nuovo Papa, di Papa Francesco, che praticamente ci incalza continuamente, perché è Evangelii Gaudium, e poi è laudato sì, e poi a Moris Letizia, credo che da lavorare ne abbiamo avuto sicuramente. Mi pare anche che ci sia stato impegno da parte della comunità diocesana, forse potremmo desiderare anche di più, ma nessuno aveva la pretesa che in due anni, tre anni, quel che era, si risolvesse tutto quanto. No, sono state accentuazioni di dimensioni o di impegni che devono continuare sempre, sia sulla azione educativa in generale, l'abbiamo messa in riferimento alla Eucaristia Domenicale e ai cinque ambiti di vita di Verona, del convegno di Verona. Abbiamo avuto il biennio sulla famiglia, poi il biennio sui giovani, il prossimo biennio sarà soprattutto sull'impegno, sulla formazione, alla vita sociale. Io credo che siano tutti i campi che devono essere continuamente presenti nell'azione pastorale, con accentuazioni diverse, ma certamente non possono mancare. Questo anno è ancora anno santo e abbiamo anche in cattedrale la Porta Santa, che io seguo con piena attenzione, proprio come mio primo compito, e devo testimoniare che l'attività anche di confessione e di attenzione al messaggio dell'anno santo da parte del Papa è ben colto da molte persone. Io credo che la presentazione che il Papa ne ha fatto, l'insistenza con cui l'ha proposto, la convinzione e l'accoglienza che c'è stato, perché credo che sia stato universale, l'accoglienza di questa proposta dell'anno santo e anche delle porte sante nelle singole chiese locali. È una novità grossa. Perché già altra volta avevamo avuto la possibilità dell'indulcenza, diciamo, nelle chiese locali, ma questo anche della Porta Santa, di un segno, di un richiamo continuo alla misericordia di Dio, al perdono, all'apertura ai fratelli. Certamente sono stati tutti i richiami che hanno favorito, che favoriscono per chi vuole approfittare, naturalmente perché è una proposta, un'offerta che è fatta a tutti. Ma io dico appunto che siccome sono abbastanza fedele a questo impegno di dare accoglienza a chi viene in cattedrale per la Porta Santa, posso testimoniare che il confessionale ha inciso parecchio sulla vita di molte persone e le quali poi si rifanno normalmente alla figura del Papa. Ecco. Sì, anche questo si può notare. perché a volte nel fare i confronti o nel verificare un po' le cose non si tiene in debito conto. Tutta la diffusione che i mezzi di comunicazione sociale ne hanno dato, il rilievo che ne hanno dato, evidentemente ha favorito una partecipazione molto maggiore. Questo non si può dire, a partire almeno da tutti i viaggi apostolici di San Giovanni Paolo II, ma poi Benedetto XVI, adesso con il Papa attuale, direi non era mai successo che quotidianamente o giù di lì la radio nazionale riferisse il pensiero che il Papa aveva detto al mattino alla messa in Santa Marta, alla messa feriale. Per dire. È diventato un pulpito. No, ma non passa giorno che anche stamattina ho sentito quello che ha riportato sia stanotte quando sono andato a letto a mezzanotte, sia stamattina subito quello che il Papa ieri ha detto nel convegno ecclesiale di Roma e in San Giovanni Laterano. Sono letture fatte sempre con molta delicatezza, ma con grande forza incisiva. Questo denota anche una serietà che non è stata sempre in passato mantenuta, voglio dire, quello di riportare il nocciolo, la cosa fondamentale, non semplicemente quello che fa prurito, quello che fa comodo, di quello che il Papa ha detto come talvolta avviene, perché anche i mezzi di comunicazione hanno una grossa responsabilità nell'informazione, che sia un'informazione corretta, non tendenziosa, non di parte. Chi oggi ammira senz'altro doverosamente l'azione del Papa ne dovrebbe prendere e quello che piace e anche quello che a volte piace meno, insomma, perché vanno in discussioni modi di vivere, scelte personali o anche nazionali o mondiali che sono discutibili. Excelenza, abbiamo ormai concluso la nostra piccola conversazione, allora io sono qui a chiederle come vede i prossimi anni, sia suoi personali, sia quelli di Ossesani. Prima all'inizio hai dato una notizia che è vera fino a un certo punto, non è che io voglio a 75 anni noi siamo invitati dal codice di diritto canonico a dare le dimissioni, poi sta al Papa giudicare quando operare la successione. Ecco, ma io lo vedo abbastanza tranquillo in questo senso che hanno sempre detto morto un Papa se ne fa un altro, avvenute le dimissioni di un vescovo provvederanno a trovare un altro, anche se mi dicono che a volte fanno fatica a trovare nuovi vescovi. la Chiesa può e deve andare avanti e naturalmente con quanti collaborano adesso, con quanti si renderanno anche più corresponsabili andando avanti o vedo le cose serenamente, credo che un futuro ci sia e possa essere anche un bel futuro. Naturalmente è un po' diverso, potrebbe essere un po' diverso da quello che è stato fino ad ora. In questa diversità ci fermiamo per non andare sui particolari, però auspichiamo non solo salute fisica ma anche continuità d'apostolato del nostro vescovo che molto si deve fare sempre, è stato molto ben accolto perché la gente lo sente proprio come uno del popolo, come uno vicino e auguriamo che questi 50 anni del sacerdozio possano essere in continuità con tanti altri ancora, come si dice in latino ad multosannos auguriamo al nostro vescovo di rimanere con noi ancora a lungo e in piena attività. Grazie. Grazie Signora e auguri a tutti e alla prossima puntata di Duc in alto. 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 Grazie a tutti.